Posso fare i complimenti a Ziacomo perché diventa sempre più bello? Grrrrrrrrrrrr Graccio Quindi non è che stiamo a uomini e donne o... Mua! Allora, bene, quando avete finito di amoreggiare se fa la domanda... Dopo, semmai, puoi lasciarmi anche il numero Sì, ma questo lo fate dopo Non faccio il paraninfo qua, hai capito? Vabbè Voi dopo, quando è finito, andate là Era pur parallelo Fate quello che vi pare Ma perché in prima serata si è vestito la differenziata? Perché fa la differenziata Ma nooo! Prego, attenzione, su! Attenzione Giacomo Questa domanda laddove lei mi desse la risposta corretta Le darebbe una doppia opportunità di pescata Che XXL, giusto? XXXL Ah, non di cose grosse Ah, ok Nooo! Quest'oggi, signor Bonolis Eh? La stupirò con una domanda sobria Ah, meno male Parliamo di musica Fra gli strumenti che amo di più ci sono quelli a fiato Mmm... Plauto attraverso In particolare, aerofoni a bocchino Nooo! Ha, 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 ha! A perdonazione Nooo! Wow